Ciao a tutti ragazzi, qua Yanoficia94 che vi parla Siamo qui in un nuovo gameplay in Assassin's Creed Liberation HD E... Eravamo arrivati al punto in cui dovevamo Trovare il modo di entrare nella villa appunto come è scritto lì E... Annemo, andiamo Allora Bene, dobbiamo seguirli Senza perdere di vista perché se lo perdiamo Nooo Dove scappi? Perfetto Come posso dirò? E vabbè Uff 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 Corri 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 a velir Perfetto Ok Ci siamo, ci siamo Perfetto Ricordate Questi beni vanno consegnati all'entrata subito dopo il tramonto Ecco Con questa avrete accesso alla cucina Ok ragazzi Ora dobbiamo Rubare la chiave a quel tizio Allora Prima di fare tutto stealth Mamma mia Ragazzi Ragazzi E abbiamo rubato la chiave Perfetto Ora Ora Andiamo a fare la missione Andiamo a fare la missione Tanto taglio Ci vediamo dopo Bella Allora Ci risiamo E Siamo Solo qua Sono andato Qua Ora continuiamo Inizio del ricordo Allora Cosa dobbiamo fare Entrare la vila e il governatore Senza essere individuati Perfetto Ma se ti può scala il muro Lo si può Perfetto Allora Un modo per entrare Oh calma Calma Madonna 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 mia Oh Allora Come favo Senza farci Vedere Di qua Allora Allora Raga Dobbiamo trovare Un vuoto Per Entrare Orc 2 Maledizione E Abbiamo Cannato Per la nostra Prima volta La nostra serie Allora Ragazzi Come facciamo ad entrare Questo è il problema Allora Vediamo se salgo Se saliamo di qua Possiamo Ottenere qualche Oh Madonna Ok Ok Forse Ce la possiamo fare Ma proprio Forse Del forse Perché Ho dubita Proprio C'ho il dubbio Che già possiamo fare Però E ce la fevo E ce la fevo Perfetto Scendi Ole Zitti Raga Perfetto Perfetto Perfettoso Siamo a 4 minuti Allora Trova l'ufficio Governatore E non farti Individuare Madonna Madonna Povera Madonna Povera Uff Ma se tipo Lo killiamo Raga Così non C'è ruba Da palle Oh Madonna Bravissima Che bob Orchidi Corri 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 Aveline Corri Aveline Grandissima Orchidi Oh Gesù Povero Gesù Povero Gesù Povero Fermati Gesù Orchidi Sto Cogliere Oh Ce l'abbiamo Fatta Non so Com'è Non vi Abbiamo Controllato Robben Giù E se voi Ci aiuterete Faremo Si che Gli errori Di Santo Domingo Non Si Ripetano Qui Farò Tutto Ciò Che Posso Per Darvi Possesso Della Colonia E la Vostra Missione Potrà Contare Su Molti Uomini Purché Teniate Fede Alla Promessa Le risorse Sono Scarse Ora E Io Devo Rimanere In carica Come Governatore Se i nostri Piani Fossero Mai Scoperti Calma 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 Governatore Temo Che Questa Cospirazione Vi Dia Alla Testa Terremo Fede Alla Nostra Promessa Purché Facciate Lo Stesso Anche Voi E Tutto Sotto Controllo Contate Su Di Bene Allora Andrò A Godermi Questa Deliziosa Festa Stasera Brindo Alla Morte Della Confraternita Wow Prendiamo Un cazzo Ora T'ammazzo Allora E lei Entra Come Urla Oh Madonna Dai Fatevi sotto Brutti Idioti Eh Ti piace Te gusta Eh Voi gusta Guarda La pro Guarda La pro Olè 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 Ma te vi Sotto Olè Oh Brutto Vai 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 Oh Oh Calma Ok Fatti sotto Fatti sotto Fatti sotto Fatti sotto Governatore Olè Tieni No No Avre Avreste sacrificato il bene della colonia per una cospirazione templare governatore Dovrei chiedervi io Dovrei chiedervi io perché L'ordine è il futuro I templari manterranno la colonia francese I templari I templari manterranno la colonia templare Per chi Deferrer cerca uomini Rivelate i suoi piani e fate ammenda Non so nulla dei suoi piani Dovevo mandargli schiavi e vagabondi Quelli che potrebbero rivellarsi contro Contro quelli che si oppongono all'oppressione e reclamano la vita che gli spetta Riposa in pace Governatore Bene abbiamo ammazzato il governatore Molto bene Non so cosa Oh madonna Allarmi Allarmi Per allarmi cosa intendevano Fuggiti dalla zona No Averi non far cazzate Vai 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 È tutto stealth Grandissimo Averi E va così Vai così Oggi di governatore usando un moschietto Che cosa ne so io Vedete Siamo a 9 minuti e 50 quindi chiudo qui Allora mettete mi piace Quando vi vedete Se vi è piaciuto Iscrivetevi se non siete iscritti E Fate quello che volete con il video Non so se avete qualcosa da dire Oppure se volete semplicemente dire qualcosa L'opinione Commentato qua sotto E Bella Bella raga